Un segnale molto importante e penso che sia una delle prime grandi manifestazioni che ci saranno a livello cuneese. Penso che l'attesa sia tanta e noi come officine Mattio abbiamo deciso di appoggiarla in modo ancora più forte anche perché è un evento che rappresenta un po' tutti noi, cittadini di Cuneo, appassionati di biciclette e nativi di queste valli che ci danno anche una mano a svolgere la manifestazione dandoci la possibilità di passare in queste magnifiche valli.